Regna ancora l'incertezza tra gli operai della GAM nonostante gli impegni assunti dal tavolo nazionale circa la proroga della cassa integrazione scaduta il 5 novembre. Manca la copertura finanziaria per il secondo semestre del 2019 e ovviamente il decreto non è stato ancora firmato mentre i lavoratori avevano già sottoscritto una liberatoria imposta dall'amministratore della GAM Giulio Berchicci per rinnovare il fitto del ramo di azienda con la quale hanno rinunciato a qualsiasi rivalsa nei confronti dell'azienda dal 5 novembre fino al giorno della firma del decreto. Nel frattempo la società che gestirà l'incubatoio sta cercando i 30 operai per iniziare l'attività il prossimo 7 gennaio però molti hanno rifiutato perché si tratta di un lavoro part time di tre giorni a settimana con il contratto agricolo di avvendiziato che non riconosce l'indenità per malattia e per le giornate non lavorate è prevista una indenità di soli 10 euro al giorno dunque è stato difficile trovare 30 operai disponibili a lavorare in cambio di circa 500 euro al mese tanto che l'azienda ha aperto la selezione anche agli esterni e alcuni ex avventizi della GAM abbandonati da tutti si sono candidati per disperazione l'articolo 36 della Costituzione fa notare qualche operaio prevede che la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa invece aggiungono queste società che hanno rilevato la GAM seminano solo povertà in un territorio non a caso inserito in un'area di crisi complessa le preoccupazioni maggiori però sono rivolte alla ripresa dell'attività produttiva del macello per la quale Avicola Vicentina ha chiesto tempo e si parla dell'anno 2021 se tutto va bene con le maestranze che rischiano di restare senza lavoro e senza cassa integrazione per alcuni anni i malumori dunque aumentano e diversi lavoratori pensano di emigrare per cercare di far vivere la famiglia dignitosamente anche perché non credono più nelle promesse dopo tanti anni di crisi la vicenda Amadori dice Antonello Di Iorio ex operaio GAM è un blef poiché Avicola Vicentina non c'entra niente con la Amadori S.p.A. e non ha i requisiti finanziari per rilanciare il polo avicolo molisano peraltro ha concluso Di Iorio Avicola Vicentina che dispone di un capitale sociale pari a 50.000 euro ha chiuso il bilancio del 2017 con una perdita di 1.199.000 euro e con una disponibilità di cassa di soli 22.986 euro gli operai della GAM sempre più esasperati si riuniranno in assemblea lunedì prossimo grazie a tutti